La paventata chiusura per ragioni di sicurezza dell'A24 da parte della società Strada dei Parchi impone, secondo il presidente della provincia di Teramo e di Buonaventura, un'accelerazione del percorso da intraprendere per la messa in sicurezza della falda acquifera del Gran Sasso, con un preciso impegno da parte del governo, così come già richiesto nella nota inviata ai ministeri interessati il 10 gennaio di quest'anno. A questo scopo è stata convocata per venerdì 3 maggio alle ore 10 l'Assemblea dei Sindaci allargata la partecipazione dei massimi rappresentanti della regione Abruzzo e delle istituzioni. All'incontro è stato invitato anche l'osservatore indipendente sull'acqua del Gran Sasso, costituito da numerose associazioni ambientaliste. Sì, innanzitutto bisogna capire che tipo di commissariamento si vuole fare. Noi abbiamo detto che il commissariamento di per sé è uno strumento, bisogna capire che tipo di poteri saranno dati. Ricordiamo che noi abbiamo già vissuto un commissariamento per il sistema del Gran Sasso e i risultati non sono stati assolutamente positivi, tant'è vero che a distanza di anni ci ritroviamo nella stessa identica situazione. Il commissariamento deresponsabilizza anche gli enti locali e coloro che devono fare i controlli, che poi per anni hanno continuato a ripetere che non sapevano neanche che tipo di interventi erano stati realizzati nel Gran Sasso dal commissario Balducci. Sì, soprattutto il commissariamento non deve servire a superare quelle che sono le norme a tutela dell'ambiente, della salute dei cittadini, che devono essere invece le linee guida per quanto riguarda qualunque tipo di intervento. Si tratta di trovare 170 milioni di euro, quindi una cifra molto alta, che peraltro potrà mettere a disposizione soltanto lo Stato, anche perché stiamo parlando di due opere, sia le gallerie autostradali che i laboratori di fisica nucleare, che sono opere statali, quindi il finanziamento deve arrivare dallo Stato e si tratta anche di interventi estremamente complessi. Venerdì voi cosa direte all'incontro in provincia? Ma noi ribadiremo quello che ho appena detto, vale a dire che bisogna individuare uno strumento anche per accelerare e per fare immediatamente la messa in sicurezza, ma deve essere uno strumento che rispetti le normative a tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente.